Saranno circa 20.000 sugli spalti per la gara di domani con la Sampdoria. Davide Nicola vorrà godersi il colpo d'occhio ma soprattutto è sicuro che la sua squadra saprà offrire una prestazione di spessore. È ciò che occorre contro una Samp che sta trovando una sua dimensione per ora più pratica che bella. Un punto a testa in classifiche ed ancora 0 alla voce gol segnati. Granata e Blucerchiati sono accomunati dallo stesso ruolino di marcia anche se i Liguri hanno disputato due gare interne. Domani saranno al primo esame esterno della stagione. Il mercato è ancora parte importante nei pensieri e nei discorsi anche se il campo in queste ore passa in primo piano. In attesa di Daniluk De Santis ha ceduto Cavion al Vicenza e Veseli al Benevento. Simo invece proprio all'ultimo ha preferito prendere tempo per l'attacco se ne riparerà da lunedì. I nomi sono noti. Domani però si attendono segnali dagli attaccanti Genrosa. Nicola lancerà Dia dal primo minuto. Butaim e Bonazzoli sono in ballottaggio per l'altra maglia. L'ex Samp potrebbe essere favorito ma non è scelta scontata. In difesa spazio al trio Bron-Ghionber-Fazio. Sulle fasce c'è abbondanza. Candreve e Mazzocchi potrebbero partire ancora una volta dal primo minuto ma Sambia e Brader ci sono in progresso di condizione. In mediana la scelta più intrigante. La Sanacoli-Bali sarà la mezzala di equilibrio. Maggiore Cassano se Vilena sono in corso per il ruolo di regista. Uno giocherà davanti alla difesa poi gli altri vedranno vita al ballottaggio per la maglia di mezzala sinistra. Con la gara di domani si apre il primo mini tour de force del campionato. La Sardana giocherà poi giovedì sera a Bologna quando il mercato si sarà appena chiuso e lunedì 5 settembre con l'Empoli alla Rechi. Grazie a tutti.